Sei sicuro di prendere tu le tue decisioni di investimento? Beh, sappi che non è sempre così. Infatti, devi sapere che i grandi flussi di denaro si muovono secondo degli schemi preordinati e collaudati e tu, come me, non puoi far altro che seguire la massa. Scopri dunque in questo video una delle teorie macroeconomiche più affascinanti e anche potenti che io conosco la teoria dei flussi dei capitali ovvero come le mani forti sono in grado di muovere i mercati e scopri anche perché questa teoria è in grado di influenzare direttamente anche i tuoi investimenti. Ricorda una prima regola di base ciò che muove davvero i mercati è solamente la convenienza e nulla di più. Ovviamente non ti sto parlando di cosa fa a casa sua un singolo investitore ma delle grandi masse di capitali che, come abbiamo detto all'inizio, non si muovono mai a caso ma c'è sempre un qualche grosso player del mercato vuoi gli istituzionali, delle grandi banche d'affari oppure dei fondi di private equity che ne detta tempi e modi di investimento e questo di riflesso influenza anche le nostre decisioni di investimento. Il motivo è davvero molto semplice se le masse monetarie si spostano dove c'è convenienza questo significa che la convenienza a restare in quel determinato investimento in quel momento supera il rischio di rimanere investiti su quell'asset. Nel momento in cui poi il vento cambia allora le masse di investitori iniziano a spostarsi adattandosi fluidamente alle nuove condizioni dettate dal mercato. Questa teoria macroeconomica che ti sto per descrivere è in grado con grande semplicità di spiegare come si muovono i grandi flussi dei capitali rendendo questo concetto davvero chiaro e accessibile a tutti e tu non devi commettere l'errore di pensare tanto a me la macroeconomia non interessa perché stai per scoprire come è fondamentale conoscere il contesto economico nel quale noi investitori prendiamo le nostre decisioni di investimento. Chi come me ha già un pochettino di capelli bianchi ricorderà sicuramente come fino a non molti anni fa eravamo tutti investitori in obbligazioni poi ad un certo punto la crisi e gli enormi stimoli monetari delle banche centrali hanno fatto sì che i rendimenti delle obbligazioni arrivassero a zero. Questa manovra ha spinto milioni di investitori forzatamente a investire nel comparto azionario spinti come abbiamo detto all'inizio dalla convenienza perché ci si è trovati in poco tempo a dover scegliere se rimanere ingessati in obbligazioni a zero rendimenti oppure spostarsi sull'azionario con rendimenti potenziali anche a due cifre. Se tu ti immagini di trovarti a dover operare questa scelta precisa ovvero rimanere fermo sulle tue obbligazioni che non vanno da nessuna parte piuttosto che spostarti sull'azionario che vedi in costante crescita che cosa faresti? E' molto semplice o perché ovviamente anche tu non potresti far altro che seguire la massa. Adesso dunque pensiamo al processo di investimento come se fossero tre vasi comunicanti fra loro e pensiamo ai flussi di denaro come a un fluido in grado di muoversi liberamente all'interno dei diversi contenitori. Vediamo questi vasi comunicanti anche rappresentati nell'immagine che ti propongo. Come vedi questi contenitori hanno anche delle grandezze diversi e non è un caso e presto capiremo come i grandi player del mercato sono in grado di allargare o rimpicciolire un contenitore a loro piacimento facendo così defluire le masse verso gli spazi liberi. Nel primo contenitore troviamo la liquidità questo contenitore non a caso è il più grande di tutti perché c'è ancora tantissima liquidità circolante nel mondo che non è investita in nessun mercato. Di fatto però questo contenitore nel corso del tempo è stato progressivamente ristretto sempre di più dalle istituzioni perché lasciare oggi i soldi sul conto corrente vuol dire semplicemente perdere soldi per effetto dell'inflazione. Se ti ricordi però alcuni anni fa semplicemente lasciando i tuoi soldi sul conto corrente potevi ottenere una seppur piccolissima remunerazione oggi invece si perde e basta. Quindi tutti quanti siamo stati spinti a non lasciare più i nostri soldi infruttiferi sul conto corrente. Il secondo contenitore è dato dal comparto obbligazionario e tutti noi per anni abbiamo dormito sonni tranquilli allocando tutto il nostro patrimonio in obbligazioni per la maggior parte obbligazioni nazionali. Ma hai capito che anche questo contenitore è stato progressivamente ristretto dalle mosse delle banche centrali che hanno portato i rendimenti obbligazionari a zero iniettando forte liquidità per fornire del denaro al sistema e far così ripartire l'economia. Questa mossa ha sicuramente funzionato per lo scopo che si era prefissato ma quali effetti secondari ha creato? Gli investitori progressivamente privati di redditività sugli investimenti a breve termine hanno iniziato dapprima a comprare dei bond speculativi a yield e poi a spostarsi verso scadenze sempre più lunghe e non a caso le banche centrali proprio in quel periodo storico hanno emesso i bond matusalemme. Chiaramente poi quando il rendimento arriva a zero un determinato mercato non è più attrattivo per gli investitori. Diciamo semplicemente che l'offerta è andata restringendosi il contenitore si è fatto sempre più piccolo facendo naturalmente defluire il contenuto al suo interno verso l'ultimo contenitore rimasto ancora vuoto. Vedi allora che siamo stati tutti costretti a defluire in massa verso l'azionario e non è stata una nostra libera scelta. Il terzo e ultimo contenitore è dato dal comparto azionario. Ovviamente noi rimarremo tutti in questo comparto fino a che non ci sarà la famosa perdita di convenienza nel rimanerci. Ovvero ci sarà un momento nel quale il comparto obbligazionario tornerà ad offrire i rendimenti di una volta oppure le azioni semplicemente crolleranno a quel punto il male minore sarà ritornare alla liquidità anche se non remunerata o addirittura erosa dall'inflazione. Analizziamo però che cosa sta succedendo ai giorni nostri perché oggi siamo in una situazione strana sembra quasi di assistere a un movimento un deflusso tra il contenitore dell'azionario e quello dell'obbligazionario non dettato dalla convenienza come abbiamo visto prima ma addirittura dal bisogno. Nella video analisi dei mercati di febbraio che ti invito a rivedere e di cui ovviamente ti metto il link in descrizione ho discusso a lungo del fatto che ci stiamo avvicinando a pie sospinto verso la temutissima inversione della curva dei rendimenti sul tratto 2-10 anni. Questo significa che in questo momento storico c'è poca fiducia da parte dei grandi player del mercato della situazione presente sui mercati. Ovviamente questa grande massa monetaria che si sta già spostando verso l'obbligazionario sta indebolendo la forza delle azioni il recipiente dove risiede però ancora la maggior parte delle persone convinta che dopo tanti anni di salita delle borse queste non possono far altro che salire. Abbiamo visto dunque come indagare anche gli aspetti microeconomici e conoscere la teoria dei flussi dei capitali è fondamentale per diventare sempre di più un investitore consapevole. Consapevole proprio del momento storico che stiamo attraversando e che sta attraversando l'economia è il momento storico nel quale noi ci troviamo ad operare le nostre scelte di investimento. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando non farmi mancare il tuo sostegno e metti un like e ovviamente attento a non rimanere proprio tu con il cerino in mano. Ti ricordo inoltre che se vuoi puoi ancora partecipare al nostro sondaggio che trovi su rendimentofondi.it per il nuovo servizio premium che stiamo lanciando e nel quale andremo anche a riprendere questi concetti macroeconomici andando ad ampliarli. È molto importante questo sondaggio per noi perché possiamo così costruire un servizio esattamente all'altezza delle aspettative del lettore e ti consiglio inoltre se sei interessato a inserirti nella mailing list prioritaria. Non riceverai nessuna email dopo l'iscrizione ma sarai semplicemente fra i primi ad essere ricontattato quando partirà effettivamente questo servizio. trovi comunque tutto descritto in home page di RendimentoFondi. Ti aspetto dunque su rendimentofondi.it e ti auguro una buona giornata.